Nella conferenza stampa di questa sera abbiamo affrontato il tema del solo indebitamento. Lanciamo una nuova attività di servizio rivolta alle famiglie, ai cittadini più deboli, alle imprese, a tutti coloro che hanno la necessità di uscire dalla morsa dei debiti. Ci sono delle leggi dello Stato che consentono di abbattere il debito per il resto, quindi di riabilitare sul piano sociale ed economico la posizione di coloro che appunto soffrono questo problema. È una missione sociale per il Movimento Cristiano Laboratori che insieme all'Associazione Nazionale di Diritti del Debitore avvia questa attività di servizio nel territorio del Calatino sul Desimetro. In realtà la nostra iniziativa si inserisce nel contesto di un protocollo di intesa più generale, siglato con il MECEL in Sicilia. Questa sera abbiamo molto collegato anche il nostro Presidente regionale Giorgio D'Antoni. Noi stiamo sperimentando nel Calatino un rapporto più complessivo. Speriamo che questa collaborazione sia utile, dia dei buoni risultati e diventi una buona prassi da diffondere in tutto il territorio regionale. Si riconferma il nostro impegno, il nostro servizio a favore degli ultimi della società, dei cittadini più deboli. È un impegno che portiamo avanti con senso di solidarietà e con spirito cristiano. Grazie a tutti.